Iniziamo questa nuova settimana in questi luoghi in Antà Comuna e Gambia, siamo qui in L'Oriani e dopo andremo in San Chirico e abbiamo incontrato due persone e due persone che stanno qui, uno che lavorano e l'altro campano qui e lavorano in villa e abbiamo avuto un bacione che l'anno in un per la storia e per il nostro paese. Salute, Flavie Guerini. Buongiorno. Grazie a tutti i nostri spettatori, qui ci siamo in L'Oriani e abbiamo avuto un lavoro di Moab, abbiamo avuto una vera di Castanina e abbiamo di noi una onda di bacche per l'Aleu. Oggi c'è assai i giorni come voi che non vanno tutta la scelta di campare l'agricoltura in paese qui? Penso che sì, in Corsica permette di assai i giorni che vogliono campare in paese e che si installano dell'agricoltura. E voi qui in L'Oriani non cambia già appena niente o siete soli? Allora in L'Oriani sono soli, ma in un regione c'è i giorni che campano qui. Oggi c'è una volontà di noi di andare più lontano, fa delle Castanina e di Eta, c'è di noi l'Aleu, poi se andiamo a bere ciò che si basse qua su, lo andiamo allora. Allora golemmo sotto le Castanina a bere i bacche. Avemo una trentina di bacche ed è importante perché se l'oggi un problema in un'attività tu la non tra per compensare. E giustamente quest'anno per esempio per i Castanini che ne avemo d'arri da noi, come si presenta l'affare? Allora a dibende di l'oggi qui i Castanini sono assai iuelli, in dei certi l'oggi sono meno garchi contunque. D'appresa noi un nemico, una vela nada, c'isola Castanina ma mica abbastanza. C'è un amico e difficoltà particolare per sviluppare l'aspoltazione di qui in paese e in montagna? Un paese è di assai di figli, o d'ampo, o d'ampo di inguerno, c'è la dì che inguerno c'è a neve, quindi è di assai di figli e dopo a straga, ci sono appena di più straga per andare in Cida o per vende a Zoroba, quindi è una difficoltà in più. In più di ghi, il rhodione è mica droppone, non è giù, e le roste è un nemico ozio, o rostino, di un rhodione di assai di osso, quindi è di assai di figli. Per far conoscere il sabieo e di vale roste, Flavigo è rinorganizzata da buo i Balcani, biside, l'antat d'ospoltazione e di nuovo biside storiche, che in sabieo il padrimonio è assai ricco, andiamo a cercare di avere di ajeja in de Jean-Pierre Isacco è solo, a sta qui, in quasi la famiglia. Ci avrete le porto ajeja, allora, faremo? E' un monumento più emblematico di la comuna di Gambia, a Capilla, San Chirico. Allora, Jean-Pierre Isacco boi sta da qui tutto l'anno, San Chirico, di che sta da una certa vita, boi boi, di che sta da qui un paese? E' stata una certa vita perché ho lavorato in corti e a un momento in cui si poteva una questione e dice, boi, se stiamo in Città o qui un paese, e questa scelta si è fatta naturalmente, di quello di un paese e di che un paese tutto l'anno qui. E' mica difficile stare solo qui, qua sovamia, di un paese e di solo abitanti, finalmente? La scelta è dopo, è una bida, io mi faccio in onda, ma famiglia è contenta, e si dice, sono contenta, e dopo faremo in corti, perché non mi pareva a arrivato a San Lorenzo, in tutto il mondo, non mi pareva a arrivato a più in mondo. Allora, Jean-Pierre boi ha debattuto studi di storia, si deve passare delle storie a noi, quale è la Capilla San Chirico che rappresenta a sai, beboi, con tu? Allora, io sono passionato di storia, e l'affare di San Chirico è bene appena il nostro giurio, la nostra ricchezza, la nostra bieve, e soprattutto i parretti ricordi di San Chirico, quando eravamo giovani, la vista di San Chirico, e tutto ciò che la rappresenta San Chirico è assai importante. Dai 3.000 abitanti che la contava a bieve di Valle Ruschie 200 anni fa, a qualche 252, la bene dei paesi è portata da qualche giorno che fermano o che si installano da una qui, ma sempre troppo pochi.